Ciao a tutti, sono Chiara Nicoletti del 73rd Venice International Film Festival oggi e con Giulia Loi, actrice nel film A Jamais, Never Ever, di Benoit Jaco. Buongiorno Giulia. Grazie. Ho scelto le notizie pressi e ho scoperto, ma voglio sapere da voi che Benoit ha chiesto mentre stai lavorando sul film, sul carattere, di scrivere un script. Sì, è vero? Come è stato? Sì, in realtà mi ha mostrato il libro di Dondolillo, di un artista di Dondolillo e poi ha detto se mi interessa e mi piace il libro potrei scrivere il script, il scoperto di questo libro e dopo ho lavorato sul carattere perché ho detto a lui che mi piace scrivere e ho già mostrato a lui un piccolo screenplay, circa 20 pagine, che ho scritto e ha piaciuto. Quindi, sì, sì. Chi era Giulia per te quando hai scritto sull'artista? Chi era Giulia per te, dopo lavorare sull'artista con Benoit? Io credo che ho scoperto molto. È la prima volta che ho avuto l'experienza di portare un film da l'inizio all'inizio all'inizio. e quindi questa è stata un'esperienza per me che scrivo un film che non ho scritto un lungo, e quindi non ho scoperto un'artista con una versione all'inizio all'inizio all'inizio. Quindi ho anche studiato come scrivere il script. E, sì, sì. Mi sento che possiamo quindi chiamare il film di una filmazione un film di ghost, ma non è da così. E' da una moglie per trattare la perdita in un modo 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 in cui È molto forte, sta cercando di superare il amore della vita di sua vita, quindi è stata una parte difficoltà e difficoltà per me di giocare, ma è anche per cui è stato molto interessante per me, è stata una difficoltà. Non sopravviene, ma credo che il cuore, in quale forma che si esprisce, può aiutare a questo processo? Certo, sì, può aiutare a una persona a elaborare le cose, a processare le cose di altre cose? Sensitività? Do you think that, for example, she expresses a lot through heart, her heart, her way of communicating with people in the theater, in this case, do you think that heart in general can help process in loss? I don't know, I don't know, strength more, maybe. Yeah. Thank you, Giulia. Thank you. Thank you so much and congratulations for the film. And this is Chiara Nicoletti for FRED, the Festival Insider.